La finale è un torneo molto difficile, qualcuno può vincere, è chiaro che per me lo più importante è che arriviamo in una buona situazione mental, fisica, tecnica e veramente abbiamo opzioni per rinnovare questi titoli. L'anno scorso fu Acqua e Sapone contro Luparenza la finale, Tino Perez contro David Marin, David Marin quest'anno c'è con il Napoli, l'appuntamento è per domenica prossima a Faenza con David? No lo so, del futuro non lo so tanto, però sì che mi piace perché è una squadra che fa un calcetto che io conozco, che gioca molto bene tácticamente, che tecnicamente si ha reforzato molto bene, è una squadra più forte che tre mesi dietro, tre mesi fa. Mi piace giocare contro David perché anche come noi cercano di trovare un gioco spettacolare, solo interviene la pala e i giocatori. Marco Ercolessi, capitano della nazionale italiana di Futsal, pronto per le Final 8 2019 in Emilia-Romagna, allora che competizione sarà? Credo sicuramente che questi tre giorni di Coppa sono il massimo che si possa vedere nel calcio a 5, nel senso che comunque si vedono grandi campioni, si vedono grandi partite, sicuramente per uno che non si è mai avvicinato a questo sport, vedere comunque delle finali tra le migliori otto squadre credo che sia un buon biglietto da visita per questo sport. Ci si innamora sicuramente.